Importante accordo tra la società piacentina MAE e Leonardo S.P.A. per un progetto di ricerca sulla fibra di carbonio che punta alla produzione di materiali innovativi per i big del settore difesa e sicurezza e con grandi prospettive di sviluppo futuri anche ad altri settori. Il Colosso Industriale ha scelto l'azienda di Fiorenzuola che aprirà un impianto pilota da 17 milioni di euro ed è la prima volta che la principale holding industriale italiana del settore aerospazio, difesa e sicurezza tra i primi 10 player a livello mondiale sbarca a Piacenza. È un accordo importante ed è la realizzazione di quello che è sempre stato un nostro sogno che è la possibilità di realizzare un impianto per la produzione di fibra di carbonio in Italia. È il primo impianto per la produzione di fibra di carbonio mai costruito in Italia. È un impianto sperimentale ovviamente, non è piccolo, serve per fare sperimentazione di tecnologie che noi abbiamo ereditato dal passato e ci mancava la possibilità di fare nuova sperimentazione. L'utilizzo di questi materiali compositi è cresciuto molto negli ultimi anni e non solo nel settore aeronautico. La collaborazione con MAE è un altro passo avanti di Leonardo in un settore strategico e competitivo. Ci siamo incontrati in Cina con i signori di MAE, abbiamo cominciato a discuterne e poi entro un anno, appena prima del Covid, siamo riusciti a finalizzare questo accordo di sviluppo. È un accordo importante perché non c'è nessuno in Italia che produca la fibra di carbonio e quindi apre un nuovo mercato. Il mercato è quello della fibra di carbonio preimpregnata che oggi viene acquistata negli Stati Uniti e in Giappone ma non viene ancora prodotta in Italia. Un giro di affari che possiamo quantificare in 180 miliardi in 10 anni ma questo solo per la parte di applicazioni aeronautiche. Poi le applicazioni sono per lo spazio, per altre industrie, per l'automotive. Un accordo che conferma la qualità del tessuto industriale piecentino. È una grandissima opportunità, poi speriamo che si proceda in questo senso perché la fibra di carbonio può rappresentare un futuro molto importante anche per l'economia piecentina. A Fiorenzuola MAE realizzerà anche un museo dedicato alla fibra di carbonio, affidato a due archistar come Carlo Ratti e Italo Rota.